Buonasera, benvenuti a otto e mezzo, buonasera, benvenuto Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, buonasera, bentornato Massimo Franco, notista del Corriere della Sera, buonasera bentornato Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, dalla legge elettorale al taglio dei parlamentari fino alla giustizia e di nuovo la politica interna a mettere alla prova la tenuta della maggioranza di Conte e Bis. Subito dopo la pubblicità. Onorevole Marattin, voi Renziani avete detto che sul ripristino della prescrizione siete pronti a votare insieme a Forza Italia. Allora, intanto mi conferma questa vostra volontà e lo fareste, lo farete anche se questo mettesse a repentaglio la tenuta della maggioranza? Ma l'importante è che politiche pubbliche si fanno per i cittadini. In questo Paese abbiamo il vizio di partire sempre dalla domanda sbagliata, cioè di intervenire a pezzi su problemi complessi. Qui la domanda è, la giustizia italiana sta funzionando sì o no e che giustizia abbiamo in mente? Io voglio una giustizia per il mio Paese in cui sia impossibile per un colpevole ripararsi dietro la prescrizione per non essere mai punito. Ma questo accade perché c'è qualche problema nel funzionamento strutturale della giustizia. Se i processi non durassero così tanto non ci sarebbe possibilità per un furbastro di fare il furbastro. Allora come si fa a riformare la giustizia? Alcune soluzioni sono state indicate da molti magistrati, alcuni delle quali mi piacciono, ma lei capisce che o prendiamo il problema così, ma se interveniamo solo sulla prescrizione significa che se mi condannano e sono in realtà innocente rischio di rimanere con questo marchio a vita. Pensi alle conseguenze professionali, umane, sulla vita delle persone. Andrea Scanzi, questo è un punto reale che andrebbe affrontato perché per esempio lo stesso magistrato Pier Camillo Davigo ha detto proprio al vostro giornale oggi che lo stop alla prescrizione da solo non basta e che bisogna evitare che i processi durino tanti anni. Allora sono fondate le critiche dei renziani? Ma intanto non mi stupisce questa coincidenza di vedute tra Forza Italia e Italia Viva, diciamo che secondo me sono lo stesso grande, cioè grande, medio piccolo partito, io lo chiamo Forza Italia Viva, quindi è normale questa coincidenza. Davigo non ha detto soltanto che non basta la blocca prescrizione, ha detto facciamo la blocca prescrizione e poi facciamo anche altre cose. La prescrizione così concepita ce l'ha soltanto la Grecia oltre che noi. Ora faccio fatica a immaginare che siamo gli unici paesi civili e tutti gli altri sono barbari perché ce lo dice Renzi o ce lo dice Giacchetti o ce lo dice il Foglio. La prescrizione così come concepita oggi falcia 120.000 processi l'anno. Gratteri, ve lo ricorderete, Gratteri oltre a essere una grandissima persona era il ministro della giustizia dei sogni di Renzi nel 2014, poi fu bloccato secondo me ingiustamente da Napolitano, il Presidente della Repubblica. Ecco, Gratteri due giorni fa proprio da Floris ha detto in un paese normale non si dovrebbe neanche parlare di indulto, di amnistia, di sanatori e di prescrizione perché così concepita la prescrizione è un incentivo ad allungare i processi perché se io sono colpevole e so di essere colpevole io butto la palla in tribuna, lascio che il tempo passi, se ho tanti soldi mi posso permettere un avvocato bravo e quindi sfrutto la prescrizione. Se non ci fosse la prescrizione e non c'è, dal primo gennaio 2020 lo ricordo, la legge è già in vigore quindi anche questo bisogna ricordarlo ai cittadini e agli spettatori, se non c'è io e sono colpevole, se sono innocente vado avanti certo, ma se sono colpevole o sfrutto il rito abbreviato o sfrutto il patteggiamento quindi casomai velocizzo. Dopodiché su un punto ha ragione Renzi, ha ragione il PD, ma è un punto su cui sono tutti d'accordo cioè non basta la blocca prescrizioni, ma chi l'ha mai detto che basta? La blocca prescrizioni entra in vigore di fatto fra tre anni e mezzo, cioè dopo il primo grado di giudizio, ci vogliono tre anni e mezzo, da quando? Viene scoperto il fatto a quando si va al processo, sono tre anni e mezzo. In tre anni e mezzo mi volete far credere che non si possono fare delle cose concrete, 5 Stelle, PD e Renziani, quando? Il PD potrebbe votare subito la riforma Bonafede che garantisce contingente i tempi certi di processo e poi si potrebbero fare tante altre cose, la riforma si impegno, se si potrebbe fare la depenalizzazione dei reati minori, si potrebbero fare tutte queste cose. Ecco, quindi insomma Massimo Franco, tra l'altro il Premier Conte è quello che sta già facendo di fare delle proposte di compromesso che possono mettere d'accordo tutti, ma diciamo che il Premier Conte deve trovare una mediazione su tantissimi altri temi con questa sua maggioranza, diciamo un po' vivace, non solo la giustizia ma all'Italia, ILVA, concessioni alle autostrade, scadenze elettorali, politica estera, come farà il Premier a mettere d'accordo tutti? Ma credo che più che riuscirà a mettere d'accordo tutti, riuscirà credo a sfruttare la paura che questo Governo possa cadere e si vada alle elezioni anticipate, siccome ci sono alcune forze, in particolare il Movimento 5 Stelle, che sembrano progressivamente in dissoluzione, io credo che Conte avrà degli argomenti per convincerli, sia su questo tema della prescrizione, che vorrei dire non è soltanto che ci sono i cattivi come vengono additati, che sono perplessi sulla prescrizione. Se non sbaglio anche un magistrato molto apprezzato come Gerardo Colombo ha espresso qualche perplessità perché prolungare un processo all'infinito è di per sé già una pena per un imputato. Però dico, al di là di questo, io credo che Conte abbia come margine di manovra quello della paura delle elezioni da parte delle componenti della sua maggioranza, soprattutto dei 5 Stelle. Dopodiché non sono convinto che riuscirà perché l'impressione è che su tante cose si tenda più al rinvio, perché non c'è una sintesi, che non ad una soluzione che abbia veramente, dia il senso di una soluzione vera, convincente per tutti. Questo è un problema che vi dovete porre anche voi, Renziani, onorevole Maratin, perché prima mi ha detto sì, anche se è a rischio la tenuta del governo, voi tenete il punto sulla prescrizione. Oggi pomeriggio avete detto che terrete la posizione anche sulla revoca delle concessioni autostrade, farete le barricate perché le concessioni devono essere rinnovate. insomma ci sono tantissimi punti sui quali non siete d'accordo con il Premier Conte e però voi ci state al governo con Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e l'EU. Due cose velocissime. Perché ci state allora? Due cose velocissime. Mi deve rispondere perché questo non è una contraddizione enorme. No. Tre anni fa questo Paese indirettamente o direttamente ha scelto di rifiutare un pacchetto di Repubblica che era monocameralismo e sistema maggioritario in cui governava un partito non del giornale, ricordiamolo, ma un pacchetto di struttura della nostra Repubblica. Cioè c'era questo prodotto, gli italiani legittimamente hanno detto no, l'alternativa sono i governi di coalizione. Nei governi di coalizione, più o meno litigiosi, ognuno porta le proprie idee, poi lo possiamo chiamare vertice di maggioranza, possiamo anche quello che vogliamo. Sono modi per confrontarsi. Ora le faccio notare che tutte le volte che Italia viva è entrata nel merito di una questione dicendo no, secondo noi è sbagliato, dall'IVA alle tasse alla Popolare di Bari in S.p.A. eccetera, è sempre stata dipinta come i rompiscatole eccetera. Poi alla fine è diventata quella l'opinione maggioritaria, a testimonianza che non stiamo qui per rompere le scatole, stiamo qui perché abbiamo un senso della politica pubblica come un qualcosa che serve a consegnare ai cittadini una soluzione che funziona. Sì, ma forse l'opinione pubblica percepisce anche una risosità. L'opinione pubblica è stata abituata a troppa semplicità in questi anni. Forse anche grazie a voi. Qualcuno dice che la definizione populismo è risposta semplice a problemi complessi. I problemi sono complessi. Se siamo noi tre al governo, dobbiamo discutere su quale sia la cosa migliore per i cittadini. E io dico la mia opinione, non sto rompendo le scatole, sto cercando di migliorare quello che noi facciamo per i cittadini. Ed è un caso, secondo lei, l'ultima volta la Popolare di Bari stamattina, che alla fine la soluzione detta da Italia Viva è sempre quella su cui convergono a denti stretti un po' tutti. È così, Scanzi. Quindi alla fine hanno ragione a rompere le scatole i renziani in questa maggioranza di governo. Ma intanto mi fa ridere che Marattin se la prenda con chi semplifica e con i populisti quando secondo me il più grande populista degli ultimi anni è stato Matteo Renzi insieme a tanti altri. Ti senti chiamato in causa? No, ma io lo posso anche essere. Sono un giornalista, faccio teatro, quindi se riempio i teatri sono contenti. Chi fa il politico dovrebbe fare un'altra cosa. Diciamo che fai più teatro che il giornalismo. Forse fai più teatro che il giornalismo. Ma lo faccio benissimo in entrambi i casi. Tu fai politica e fai teatro male, quindi è anche peggio. Meglio teatro fai. Però se mi permetti di rispondere, se uno avesse ascoltato Marattin avrebbe immaginato che Marattin fa parte di una forza politica che ha il 30-40%, che ha sempre ragione, che è detta l'agenda. Sapete perché Marattin e i renziani fanno tanto casino ma stanno dentro il governo? Perché in natura non esistono. Perché qualche settimana fa, anzi ormai qualche mese fa, quando Italia Viva è nata, Matteo Renzi era convinto di aver partorito una montagna Purtroppo per lui la montagna ha partorito un topolino. Nei sondaggi ci sono alcuni sondaggi che danno Italia Viva sotto il 4%, che la danno più o meno a pari merito con Calenda, con tutto rispetto per Calenda che è molto più bravo di Renzi, ma è appena nato come partito politico. Quindi il problema di Renzi è che una volta fatto nascere Italia Viva era convinto di aver fatto il capolavoro della vita perché tende sistematicamente a sopravvalutarsi, poi ha sbagliato ogni mossa, compresa la gestione mediatica della vicenda Open perché ha reagito come neanche il peggior Craxi e i sondaggi languono. E allora il signor Renzi, come il signor Marattino, come la signora Bellanova, come tutti quelli che fanno parte di Italia Viva, possono abbagliare quanto vogliono, ma non esistono in natura, non raggiungono il 4%. E dico anche sulla prescrizione, visto che se ne parlava prima, se non ti racconto la corda, loro alla fine passano per... Mamma mia che battuta originale che ha fatto Marattino, ti vedo particolarmente in forma stasera, anche sulla prescrizione, se loro tirano troppo la corda sulla prescrizione, passano per quelli che salvano gli indagati, gli inquisiti, le lobby, abbaiano ma non mordono. Renzi in natura non c'è, è il politico più detestato dagli italiani, usciamo da questa finzione mediatica. Un giorno ci dirà Scanzi che gli ha fatto Renzi, Scanzi è ossessionato da Renzi, Scanzi si sogna Renzi anche la notte. Scanzi, ci sono dei boi metodi per rimuovere queste cose, fatti una vita. Marattino, per mia fortuna io sogno altre cose, l'unico che sogna la notte è di chi è Marattino, perché Marattino senza Renzi non esiste neanche in natura. Tu senza Renzi non vai neanche a scolacciare i billi come diciamo in Toscana. Un attimo, al di là delle battute, Scanzi ha detto che voi di Italia Viva raggiungete a malapena il 4% in base ai sondaggi, ma voi di Italia Viva siete a favore di questo ultimo progetto, proposta di legge elettorale nuova che gli spettatori e le spettatrici si sentiranno poco bene, il Germanicum che sarebbe una legge proporzionale pura con una soglia di sbaramento al 5%. Voi siete a favore? Noi volevamo e vogliamo un sistema monocamerale e col maggioritario. Non mi dica solo perché per voi se è vero quello che dice Scanzi che non arrivate al 4% dovreste essere contrari se c'è una soglia di sbaramento al 5%. Sì, nella stessa frase stanno difficilmente, però anche qua non posso rispondere semplicemente. Il mio sistema elettorale preferito è quello con una camera e con doppio turno. Dopodiché il problema dove sta? Che nel frattempo è intervenuto il taglio dei parlamentari e noi abbiamo un sistema con 400 deputati, 200 senatori che è la più bassa rappresentatività nei paesi occidentali. Se noi facciamo un maggioritario a doppio turno così, intere zone del paese, rimangono senza un parlamentare o senza un senatore o un deputato, dopo il taglio dei parlamentari ci può essere solo una legge proporzionale. Con lo sbaramento al 5% va benissimo, ma è bene che chi sta a casa spieghi e capisca perché non perché abbiamo cambiato idea, perché si è voluto portare lo scalpo di 300 parlamentari da populisti come Scanzi e quindi così facendo, se noi facciamo un maggioritario se la spieghi dei giorni intere rimangono senza rappresentanza. Io la politica ci credo ancora. Tu puoi spiegare come si fanno i trapianti e i capelli malattine, ma la legge elettorale temo di no. Scanzi un attimo, Massimo Franco. Lasciamo stare la legge elettorale che già di per sé ci fa sentire poco bene, anche perché sono sempre complicate le leggi elettorali da capire e poi da spiegare. Vorrei invece venire a Salvini. Oggi in Emilia Romagna a fare campagne elettorali, Salvini c'è da mesi, è andato anche Zingaretti con scambio di scaramucce, battute. Però oggi è successa una cosa importante, credo. Aiutaci a capire e a darne una lettura. Perché la maggioranza ha chiesto il rinvio del voto, che doveva esserci il 20 gennaio della giunta per le immunità, che deve decidere se mandare a processo Salvini per la nave Gregoretti. Ora, Salvini ha reagito in modo durissimo, ha detto che questa maggioranza è senza dignità e che praticamente lo hanno fatto. Perché? Spiegacelo tu. Io ho l'impressione che ci sia un governo che tende a rinviare diverse cose a dopo le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, che sarà nel 26. Credo quindi che dietro questo rinvio ci sia anche la voglia di non regalare a Salvini una occasione per dire che è perseguitato da questa maggioranza. D'altronde è anche obiettivo il fatto che, nonostante tutte le differenze che vengono sottolineate, nell'opinione pubblica rimane difficile fare una distinzione chiara tra il caso Diciotti, per il quale Salvini... Governo Contebis 1 dove i 5 Stelle votarono... Per la non autorizzazione è questo caso. Quindi credo che ci sia questo elemento che è un elemento di ambiguità, soprattutto del Movimento 5 Stelle. Però come maggioranza credo che l'obiettivo non sarà molto nobile, ma è molto elettorale, sia quello di non consentire a Salvini di usare questa accusa contro lui per dire che lo vogliono far fuori dal punto di vista giudiziario. Credo che quindi capisco la protesta di Salvini, capisco anche la preoccupazione della maggioranza. Ecco, onorevole Maratin, voi a questo proposito avete detto, perché adesso non si vota il 20 gennaio, si voterà più avanti, ma prima o poi la Giunta per l'Immunità deve decidere se mandare a processo Salvini sì o no sulla questione della nave Gregoretti. Voi avete detto, leggiamo le carte, poi decidiamo, avete letto le carte, immagino perché avete avuto tempo, voi voterete perché Salvini vada a processo o perché invece valga l'immunità e non vada a processo? Credo che oggi il nostro capocruppo in Senato abbia chiesto semplicemente più tempo per l'istruttoria senza necessariamente rinviare il voto. Le posso dire in onestà? Cioè quindi non avete deciso ancora? Noi crediamo che non ci sia differenza con la vicenda di Ciotti. Noi per la Ciotti abbiamo votato, i cittadini devono anche sapere che non si vota per condannare Salvini. I parlamentari decidono se c'è o no il fumus persecuzionis, cioè se per caso un giudice non attacca Salvini perché gli sta antipatico. Questa è l'unica decisione che dobbiamo prendere. Per noi Diciotti e l'ultima nave sono la stessa cosa, quindi le dico però anche una cosa. Secondo me agli italiani, non so se dire purtroppo per fortuna, perché poi nessun cittadino è al di sopra della legge, neanche un politico. Se Salvini ha commesso un reato deve essere giudicato. Però non credo che sia questo un tema elettorale. Noi in questi giorni siamo impegnati nel fare una proposta di rifacimento completo del sistema fiscale. Però dovete prendere una decisione prima o poi. Secondo me Diciotti... Ma lei personalmente cosa farebbe? Io non ho letto le carte perché non sono membro della Giunta. Se fossi membro della Giunta leggerei le carte, capirei se c'è un giudice. Secondo me Salvini deve essere giudicato da un tribunale perché credo che ha fermato una nave, non un ONG finanziato, come dice lui, da qualche potere strano mondiale, ha fermato una nave italiana della Guardia Costiera. E quindi credo che questo sia sufficiente, pur non avendo visto le carte, noi siamo gente abituata a prendere decisioni dopo aver visto le carte, per far sì di affermare che Salvini non è al di sopra della legge come qualsiasi cittadino. Però non credo che questo sia un tema da campagna elettorale e se qualche cittadino pensa di votare o meno Salvini a seconda di questo, sta secondo me sbagliando. Va bene, come lei sa, in campagna elettorale, è vero Andrea Scanzi, entra tutto, anche quello che non ci dovrebbe stare, anche perché ricordiamo che in Emilia Romagna si vota e i cittadini che lì abitano, in quella regione, votano per un nuovo governo della loro regione, però a seconda delle interpretazioni ha valenza di test nazionale oppure solo regionale. Scanzi, Salvini sulla questione della sua immunità, dice che i 5 Stelle, soprattutto i 5 Stelle vengono criticati, proprio perché come ricordava prima Massimo Franco sulla 18, i 5 Stelle dissero no, Salvini non deve andare a processo. Questo è un punto debole di Di Maio, che diciamo di punti deboli ne ha tantissimi, in queste settimane, in questi nodi. Hai già risposto tu, ha tanti punti deboli, questo è uno dei tanti ed è un punto debole innegabile. Credo che l'attacco di Salvini sia anzitutto a Conte, perché Salvini ancora si sogna la notte le botte che si è preso il 20 agosto al Senato, perché nessun politico lo ha umiliato come fece Giuseppe Conte quel giorno, e ovviamente attacca i 5 Stelle perché votarono in maniera diversa sul caso di Ciotti. Come tu ricorderai, gli spettatori ricorderanno, io ho sempre detto che la decisione dei 5 Stelle sul caso di Ciotti sia stata la più scena indifendibile ed efficiente decisione presa dai 5 Stelle durante il governo Salvimaio. Credo che ci siano delle differenze tra vicenda di Ciotti e Gregoretti, in un caso ne rispondeva anzitutto Malta, nell'altro caso ne rispondeva Italia, in un caso c'era una collegialità totale il caso di Ciotti, nel caso Gregoretti di fatto ha deciso soltanto Salvini o soprattutto Salvini, perché era il Salvini versione papete, era il Salvini che ormai correva da solo, ci sarebbero altre distinzioni, però al netto innegabilmente i 5 Stelle su questo sono molto attaccabili, poi per carità hanno sbagliato la prima volta, meno male che non sbagliano adesso, non è che perché hanno fatto una sciocchezza l'anno fa la dovevano fare anche adesso, ma su questo sono attaccabili come praticamente su tutto Lilli, è chiaro che si sta per andare a votare in Emilia Romagna e in Calabria e parliamo di una forza che se va bene raggiunge l'8%, quindi mi domando, i 5 Stelle dopo aver deciso in maniera scellerata di correre da solo in Emilia Romagna e in Calabria, mettendo a rischio la vittoria di un buonissimo governatore come Bonaccini, non parlo della Calabria perché la conosco meno, siamo sicuri che Di Maio dopo quelle batoste che prenderà in Emilia Romagna e in Calabria sarà ancora il leader del Movimento 5 Stelle e se prendono il 6-7% dopo tutte le batoste che hanno preso dal giugno del 2018 al gennaio 2020, ci sarà ancora Di Maio semplicemente perché è il meno peggio? Prima o poi qualcuno se la dovrà fare questa domanda dentro i 5 Stelle? Beh, dentro i 5 Stelle la domanda se la fanno ormai in parecchi, visto che anche stasera sono riuniti i senatori e visto che viene messa in discussione la leadership di Di Maio in modo mai come ora, diciamo così evidente, così aperto. Senta Maratin, però i 5 Stelle hanno fatto una serie di politiche sociali che hanno portato dei frutti perché se leggiamo i dati sull'occupazione di oggi che sono buoni, migliori da un po' di tempo, l'Inps ha elogiato l'effetto del reddito di cittadinanza nella lotta alla povertà, voi però avete tanto criticato e siete ancora contrarissimi al reddito di cittadinanza per esempio. Anche qua purtroppo non è semplice, intanto non c'è nessuna evidenza sull'effetto del reddito di cittadinanza sulla povertà, è stato detto che è la ridotta del 60% ma non ci sono dati e fonti su questa vicenda e la povertà è una cosa troppo seria. Se guarda l'intervista di Tridico oggi a Barbera sulla stampa, Tridico ammette di aver dato un dato più o meno a casaccio, cioè la verità è che il 60% dei beneficiari del reddito può essere in povertà assoluta, ma non vuol dire aver ridotto la povertà del 60%, è un paese pericoloso quello in cui si sparano numeri a caso. Ma io le dico un'altra cosa, noi critichiamo il reddito di cittadinanza perché con uno strumento vuol fare troppe cose, allora se con quello strumento si vuole aggredire la povertà se ne può parlare, secondo me funzionava meglio il REI, cioè era proprio disegnato meglio ma può darsi che come sussidio abbia funzionato, non so se la ridotta del 60% la potesse abbia funzionato. Dov'è il problema con il reddito? È che si era detto che serviva anche a trovare lavoro a un disoccupato di 45 anni che veniva licenziato e che doveva imparare un nuovo lavoro con i cosiddetti navigator. Quel fronte lì è stato un fallimento perché quei stessi dati che citava lei, stavolta però verificati perché è dalla Banca d'Italia, ci dicono che il 3,6% dei beneficiari del reddito di cittadinanza ha trovato un nuovo lavoro. Quindi noi diciamo di cosa stiamo parlando qui? Di un sussidio contro la povertà? Allora va benissimo, assicuriamoci che si è disegnato bene perché qualche abuso c'è stato ma per insegnare a uno che perde il lavoro un nuovo lavoro, anche un cinquantenne perché dove sta scritto che un cinquantenne che perde il lavoro deve rassegnarsi come si faceva in vecchi tempi alla mobilità, al prepensionamento? No, dobbiamo insegnargli un nuovo lavoro tramite il rifacimento completo delle politiche attive nel mercato del lavoro. Questa sfida così importante la fa il reddito di cittadinanza? La mia risposta è assolutamente no. Quindi serve uno strumento apposito, completando il Jobs Act da questo punto di vista, che possa far sì che uno che perde il lavoro non viene mai lasciato da solo. Massimo Franco, verrebbe da dire che però da qualche parte bisogna cominciare. Questo vale per la giustizia, vale per la lotta alla povertà, vale per tante questioni sulle quali però Italia Viva e Renziani sono... Sembrate quasi l'opposizione, onorevole Maratini. Fate più opposizione di Salvini. Sentare in maggioranza significava dire sì signore, ce lo potevate dire, stavamo volentieri all'opposizione. La realtà è complessa e si deve migliorare parlando del merito. Se parlare del merito significa essere... Ma non è complessa la realtà. Ma per te non è complessa perché tu non ha... Cosa vuoi che sia complesso per te? Stare in maggioranza in un governo di coalizione significa parlare delle cose concrete. Scanzi e poi Massimo Franco. Ma vedo che stasera Maratini decide di cosa si può parlare in campagna elettorale e cosa no. Quindi la vicenda a Gregoretti secondo lui non era importante. Ci ha appena detto che i numeri che lui ha sono sicuri mentre i numeri dell'Inps non sono sicuri. Diciamo che oggi Maratini ci sta facendo vedere cosa deve fare un po' di gioco. Non ti ho interrotto Maratini, non ti ho interrotto anche se lo avessi fatto, ti avrei fatto un favore perché sei inguardabile oltre che inascoltabile. Ma devo dire che stasera facendo vedere cosa deve fare un politico per spagliare tutto. No, scusate. Pensavo di piacere. Tranquillo, vai tranquillo Maratini. Se è inguardabile contenutisticamente, di sicuro non faccio riferimenti estetici, ho ben altri gusti Maratini, ma il punto è perché secondo me non è complessa la realtà Maratini. Perché tu fai parte di un governo che non c'entra niente con te, intanto perché non hai sostanzialmente un'esistenza politica, ma perché tu fai parte di Forza Italia, cioè tu devi stare all'opposizione con Forza Italia. Tu fai parte di un partito che è sostanzialmente identico ai berlusconiani, i berlusconiani sono la stessa cosa, quindi tu non centri niente con accanto l'EU, con accanto il PD, con accanto i 5 Stelle. Sai perché sei lì dentro? Perché volete stare attaccati alla poltrona, perché se si va a votare non vi vota neanche il gatto Maratini, non mi ci freghi, tu non esisti in natura. Il tuo partito in natura non c'è, ecco perché stai dentro il governo, tu abbai ma guai a staccare la cornetta, guai a staccare la presa. È chiaro, è chiaro, è chiaro, no, adesso voglio sentire, voglio sentire Massimo Franco, cioè la situazione a questo punto a che punto è, ma intanto che mi sembra ci sia un po' troppa polemica, artificiosa, e quindi mi pare che anche le cose si potrebbero fare e vengono quasi impedite da questi toni così alti. Ma no, la sensazione è questa che intanto bisogna essere chiari, non è che il Movimento 5 Stelle o la Lega siano marziani, sono un populismo che nasce da altri populismi e quindi sono il frutto del fallimento degli altri, altrimenti non li avremmo, questo è il primo dato. Il secondo, io sul reddito di cittadinanza, mi dispiace per scansi, sono molto negativo per gli abusi che ci sono, per l'assenza di controlli, ma devo dire pure che sono stato molto critico rispetto agli 80 euro dati da Renzi, che in qualche modo sono avvenuti nella stessa logica, una logica tipo assistenziale, invece di fare investimenti... Erano a chi lavora però, 80 euro erano a chi lavora, non a chi non lavora. A chi lavora, sì, ma non si hanno anche detto che quelli che ne avevano veramente bisogno non ricevevano niente. Sì, mi ricordo, una pizza da 80 euro, il suo leader va nelle pizzerie da 80 euro, l'ha detto lui, non l'ho detto io. Ecco, allora, sì, ma adesso non ci interessa in questo momento, adesso io voglio, no no, però hai fatto bene a ricordarlo, e io invece vi ricordo che adesso guardiamo il punto di Paolo Pagliaro, perché c'è un'altra questione che agita questa maggioranza, ed è il referendum sul taglio dei parlamentari. Pocchi secondi, poi il punto. Il ripensamento di alcuni senatori potrebbe far mancare il numero di firme necessarie per indire il referendum confermativo sulla legge che riduce il numero dei parlamentari, voluta dal Movimento 5 Stelle e approvata all'inizio d'ottobre. La partita, per chi vuole che sulla riforma si esprimano i cittadini, non è comunque chiusa. Ci sarà tempo fino a lunedì per raccogliere a Palazzo Madama le 64 adesioni indispensabili. La riforma stabilisce che i parlamentari di Camera e Senato siano ridotti di un terzo, passando da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. È una riforma decisamente popolare e quindi tutti i partiti l'hanno votata. Ma non sono mancati i singoli obiettori, i quali hanno fatto notare che il taglio diminuisce la rappresentanza degli elettori, rende i gruppi parlamentari più facilmente controllabili da leader e segretari, non mette in discussione il malcostume istituzionale delle liste bloccate e più in generale rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica. L'obiezione forse più fondata riguarda il fatto che la legge taglia parlamentari e elude il problema della democrazia interna ai partiti, che andrebbe invece affrontato per dare applicazione all'articolo 49 della Costituzione. Il 22 maggio del 1947, quando il tema fu discusso dall'Assemblea Costituente, Aldo Moro spiegò che se non vi era una base di democrazia interna, i partiti non avrebbero potuto essere strumenti di democrazia nella vita del Paese. Settant'anni dopo, con il passaggio dai partiti di massa ai partiti dei leader, il bisogno di trasparenza non è diminuito, ma semmai si è accentuato. Se anche di questo si discuterà nella campagna referendaria, c'è da augurarsi che nelle prossime ore i promotori riescano a raccogliere le firme mancanti. Allora, vedremo, vedremo. Io ringrazio i miei ospiti di essere stati con noi. Grazie onorevole Marattin, grazie Massimo Franco, grazie Andrea Scanzi, grazie spettatrici e spettatori. Do la linea subito a Corrado Formiglia, il suo Piazza Pulita. Ci sono molti ospiti, da Bersani a Calenda e molti altri, quindi state con noi e noi ci vediamo domani a otto e mezzo. Arrivederci.